Salve a tutti in questo video vediamo come impostare l'indirizzo di casa e di lavoro su Google Maps o come cambiarlo appunto. È molto semplice, siamo all'interno del nostro Google Maps e dobbiamo fare tap sull'icona del nostro profilo. Ecco qua, adesso andiamo su impostazioni. Si aprirà questa schermata, dobbiamo andare in basso fino alla sezione impostazioni account e vediamo che qui c'è indirizzo casa o lavoro, facciamo tap. Dobbiamo fare tap adesso su etichettati, lo so è un po' complicato e qua abbiamo l'indirizzo di casa o di lavoro. Possiamo fare tre puntini e poi andare a fare modifica casa. Possiamo anche modificare l'icona volendo, possiamo rimuovere l'indirizzo di casa oppure annulla. E quindi questo è quanto, e qua stanno le due icone con i due indirizzi da impostare. Ora che abbiamo visto come si fa su iPhone, vediamo come si fa su Android ed è molto più semplice qui. Andiamo sull'icona anche qui e pure qui andiamo in impostazioni, ma in questo caso troviamo già qui la sezione indirizzo casa o lavoro. Quindi andiamo qui ed ecco che abbiamo casa, lavoro ed altre cose eventualmente impostate. Andiamo a fare qua i tre puntini su casa e possiamo fare modifica casa anche qui, rimuovi casa eccetera eccetera. Spero di essere stato utile, ci vediamo al prossimo video.